Dereci a tutti ragazzi e ragazze ben ritrovati a un nuovo episodio su Detroit Become Human Il video precedente è stato un pochettino strano intendo quello del sondaggio presente negli extra Mi ho un po' destabilizzato, adesso però lasciamo perdere, magari vi inserirò ogni tanto nel corso della serie un po' di chicche della sezione extra del gioco Anche il cortometraggio di Cara, ora però andiamo avanti con la nostra trama principale Anche perché sono curiosissimo di sapere che piega prenderanno gli eventi che abbiamo vissuto finora L'ultima puntata di serie mi è piaciuta veramente un sacco, ho fatto qualche scelta bizzarra però bene o male la nostra storia no? Ventidue e cinquantotto Dove siamo? Con chi siamo? Ah con Cara, questo è l'autobus che hanno preso lei e Alice Downtown Non siamo più danneggiate? Non siamo più danneggiate? Il sangue blu che le usciva dal naso ci sta che se lo sia pulita ma gli mancava un pezzo di guancia se non ricordo male Questa cosa non mi va troppo giù Dovano tenere in considerazione questo aspetto Ok Vabbè Potremmo passarci sopra ma È l'ultima volta che sono disposto a farlo Potrebbe essersi rigenerata, magari scopriamo che poi gli androidi sono in grado di Rigenerare pezzi di tessuto, di pelle sintetica Ok non è un filmato, dobbiamo muoverci Restare qui è rifugio Proviamo a chiedergli se conosce un rifugio Dubito che potremmo restare qui Dovano se c'è un altro posto dove potremmo spendere la notte? Non ho idea Ha avuto la vita Ok Ovviamente Non credo comunque che ci avrebbe fatto rimanere qui Mamma mia la storia di Chiara è quella che mi mette più angoscia Proprio avverto Una certa pesantezza nel giocare queste sezioni Ma non perché io sia particolarmente emotivo È che quando ci sono in mezzo a dei bambini Empatizzo un sacco Piove di rotto tra l'altro Proprio come potrebbe andare peggio la situazione Vieni piccola Allora attiviamo subito il nostro GPS Ok Ci sono almeno tre marker a portata di occhio bionico Che ho individuato Ok Dobbiamo trovare un luogo sicuro Possiamo parlare con loro Cosa stanno facendo? Io non capisco cos'è questo parcheggio Massimo di unità 8 Massimo di tempo di parcheggio 3 ore Ma perché devono essere parcheggiate? C'è qualche ragione specifica? Ok I semafori non vanno Qua c'è un negozio In cui gli androidi non possono entrare però Ah esamina Attenzione Ah molto scomoda ma discreta Questa via Ah ce ne sono altre Scomoda ma sicura? Come entriamo? Comodo ma non discreto E servono soldi Oh 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 Attenzione Aperto 24 7 Non possiamo restare Oh accio Aperto 24 7 Non possiamo dormire qui Chiedere aiuto? Sì Questo dovremmo poterlo fare Il negozio è chiuso Vabbè L'avevamo capito da soli C'è qualcos'altro Che magari mi sfugge Allora Ok Provare il motel Provare la casa Provare il parcheggio Alice dove sei? Dammi la mano Che fai? Ah forse è meglio Se rimani qua Dalla banchina Però tutta sola Ah piccina Parliamole Ahia Oh C'è qualcuno Che può aiutarci Oh Oh Ma C'è l'altra parte Della città Abbiamo bisogno di un paese Per la notte A chi si riferiva Quello androide Qualcuno che può aiutarci Forse altri androidi Disertori Forse devianti Ma In ogni caso A noi serve aiuto subito Allora Ehm Boh Proviamo qui Proviamo il negozio So Why not What do you want I'm with a little girl And we have nowhere to go Could you spare some money So we can get a room for tonight Shit A homeless android Ah that's the best yet Guarda, questa è una store conveniente, non la Salvation Army, ok? Sì, potresti andare, se non compriamo niente. Questa azione non è stata chiarissima anche perché andavano contemporaneamente sia sottotitoli della radio, sia quelli del cassiere. Infatti ero mezzo intrippato a seguire lo zoo della Cyber Life che a quanto pare riporterà in vita alcune specie non esistenti, non più esistenti sotto forma di androidi, alcune specie estinte, ecco. Qua ci sono degli oggetti di cui non ci interessa assolutamente nulla. Ah no, 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 non volevo prenderla, ci va per Alice. Aspetta, 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 rimettila a posto. No, no, riponi, riponi un attimo. Allora, potremmo taccheggiare, eh. Quindi invece che andare di prepotenza... Scusate, quali sono le opzioni? Taccheggiare, trovare un piano? C'è anche un'altra opzione bloccata. Oh. Forse abbiamo un'altra alternativa. Allora. Oh. C'è qualcosa lassù? Un antifumo. Ah no, la telecamera. Ah. Allora, cerchiamo di capire il raggio della telecamera fin dove arriva. Ok. Allora, calma. Ah, 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 però ce n'è più di una. Ah no, le telecamere ci fanno, ragazzi. Ci fottono in modo chiaro per farci capire che... Ci fottono in modo chiaro per farci capire che... O c'è un angolo cieco. Ma dubito. Magari riusciremmo, eh, a taccheggiare il negozio. Magari ci riusciremmo, ma... Probabilmente anche se riuscissimo a farla franca con il negoziante, verremo poi rilevati dalle telecamere. Oh, ho capito adesso a cosa serve... Oh. Ok. Attenzione, però. Abbiamo sbloccato qualcosa. Ho capito adesso a cosa serve l'indicatore scetticismo. Probabilmente compiendo azioni di questo tipo, essendo che noi già siamo ricercate, o se non lo siamo ancora, lo saremo appena Todd si ripiglierà. Eh, se in più scoprissero che gli androidi rubano nel supermercato, aumenterebbe ancora di più lo scetticismo della popolazione. Finiremo per farci odiare. Allora, parliamo con Alice. Usa Alice, prova qualcos'altro. Ok, probabilmente potremmo usarla per creare un diversivo. Forse facendo cadere quei barattoli non lo faremo. Comunque mi spiace, tesoro, ma... Dovremmo cercare anche di essere un esempio per te. E sebbene siamo in una situazione abbastanza estrema, il furto, anche in questo caso, non lo giustifico. Nessun rifugio laggiù. Allora... Un'opzione era questa. Dormire nell'auto abbandonata? Allora, il motel lo escluderai. È la scelta più comoda, senza dubbio, ma anche quella più rischiosa. Saremo poco discrete. Punto a cercare di restare in incognito il più possibile. Questa invece è la casa? Forse ha il compromesso migliore, la casa abbandonata. Qui si può tagliare la recinzione con una tronchesina. Occupare la casa. Sei sicuro che non sia già occupata? Trovare una tronchesina. Boh! Boh, 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 boh. Vediamo anche cosa ci c'è sul motel, giusto per curiosità, ma... Non penso che... Pernotteremo qui. Ah, a parte che... Gli androidi... Non possono pernottare. Gli androidi... Eh. Dobbiamo trovare 40 dollari... E ridurre questo uniforme. O andiamo a un'altra parte. Che casino. No, 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 no. Recupera 40 dollari, trova dei vestiti... Oh, fai qualcos'altro. Sono maledettamente indeciso, ma... Non penso di voler andare nel motel. Sono indeciso più che altro tra l'auto e la casa abbandonata. Qua c'è la lavanderia, probabilmente potremmo prendere i vestiti qua, o rubarli. Ragazzi, voi cosa fareste? Scrivetemelo nei commenti, sono curioso, eh. Ditemi se prendereste delle scelte diverse dalle mie e perché, naturalmente. Non semplicemente perché il motel è più figo, è chiaro che il motel è più figo, ma... Tenendo conto del contesto... Anche io sarei curioso di vedere Cara con altri vestiti, ma... Qua si tratterebbe di rubarli, giusto? Che fai? Non sono i nostri vestiti. Non mi ha detto che noi sappiamo. Ti vuol dire qualcosa di caldo e ho bisogno di ridurre questo uniforme. Ma questo è stigliato. Non possiamo fare questo. No, mi ha convinto la bambina. Mi ha convinto la bambina perché... Non voglio... Non voglio influenzarla negativamente. Non voglio che abbia una brutta opinione di noi. Lei non si sta lamentando, tutto sommato. Nonostante stia congelando. Vieni, piccola. Oh, una rivista, però. Century. Le api sono ufficialmente estinte? Un miele molto amaro. Esperto avverte, il vostro androide potrebbe essere manomesso. Il sito di appuntamenti è smascherato, il 95% degli utenti sono uomini. Ma va? Non credo. Un miele molto amaro. Le api sono ufficialmente estinte. Per decenni scienziati e elevatori hanno previsto l'inevitabile estinzione delle api. Nonostante il loro monito, l'Istituto Globale per le Specie a Rischio, IGSP, ha annunciato ieri a Washington che le api selvatiche sono ufficialmente estinte. Gli esemplari viventi esistono solo in cattività. Negli ultimi decenni, la sindrome da spopolamento degli alveari, che comporta la sparizione delle api operaie, ha decimato le colonie, incapaci di nutrirsi in autonomia. I biologi confermono che il fenomeno è stato accelerato dall'uso di pesticidi, dai parassieti e dall'inquinamento. Vabbè, queste riviste naturalmente ci servono anche per cogliere tutte le critiche poco velate di Cage. Non so se questo è un rischio che stiamo effettivamente vivendo anche ai tempi nostri. Sinceramente, ammetto la mia ignoranza, non ne ho mai sentito parlare del fatto che le api siano una specie a rischio. Però potrebbe essere così. Non penso se lo siano inventato di sana pianta. Le conseguenze di questa catastrofe avranno un peso sull'industria del cotone, sulle scorte di acqua potabile e soprattutto sull'agricoltura. L'ambientalista Kathy Linda ha aggiunto, un boccone su tre del cibo che ingeriamo si basa su un'impollinazione di qualche tipo. La carestia che ne deriverà causerà milioni di morti in tutto il mondo. La Cyberlife comunque è peggio della Disney, cioè c'ha mani in pasto ovunque. In collaborazione con l'IGSP ha proposto l'idea di creare api robotiche. Sono in molti però a spingere verso un approccio non robotico come la Detroit Urban Farms che sta sperimentando con specie di api modificate e prodotte in cattività anche se non c'ha garanzia che sopravvivano. Ok. Mio marito ha ingravidato un androide all'interno. Spero sia una fake news o un titolo clickbait. Musica da vivere in prima persona, ritorno dei concerti dal vivo. Dieci modi per far godere il tuo uomo e tenertelo. Ok. Per i più giovani assistere ai concerti tramite un visore per la realtà virtuale è ormai una prassi consolidata. A chi non piacerebbe godorsi la propria band preferita, la comodità del proprio salotto ha un modo economico, sicuro e pratico di ascoltare musica. Ma sulla musica live soffia aria di rivoluzione. Nina Ecosuke Music ha lanciato una campagna per riportare Nauge ai concerti dal vivo con pubblico e performer in carne e ossa. Jack Morrison, portavoce del Ney Ekeim, giusto? Spiega. La cultura del concerto dal vivo appartiene al passato, ma noi vogliamo che ritorni. La musica vera è quella che sentiamo vibrare nel corpo e nell'anima, circondati da persone che condividono la stessa passione. Sono molto interessanti, eh? Queste notizie. Spero di non annoiarvi. Break the Wall sarà una delle prime band a salire sul palco. Suonare davanti a un pubblico vero e osservarne la reazione sarà incredibile. È così che la musica dovrebbe essere. Sostiene il cantante della band. Bad's Root, l'adrenalina, gli applausi, le urla, sono cose che sul divano non si possono provare. Se l'esperimento sarà un successo, il prossimo passo di NKM è il ritorno dei festival musicali, teoricamente apprezzati dai fan. Ok, vabbè. Abbiamo scoperto qualcosina in più sul mondo di gioco. Intanto Alice si è goduta un po' di calduccio, ma adesso, ahimè, dobbiamo riuscire a mani vuote. Tra l'altro questa idea dei concerti in VR, in realtà virtuale, non è così balzana. Solo che qua nel 2038 ha fatto in tempo a tornare indietro. Ha fatto l'effetto boomerang per cui i concerti sono tornati a essere roba cool. Mamma mia che disagio, spero di non vivere in un futuro in cui i concerti siano diventati qualcosa di desueto. Allora, la casa. Ok, dobbiamo trovare le tronchesine però. Nel frattempo nella mia testa ho deciso che andrò a dormire nella casa abbandonata. Allora, qua non vedo oggetti. Per cui potremmo provare ad andare nella zona in cui c'era l'auto, a meno che anche qui non si debba fare qualcosa per entrare. C'è un quick time event? No. C'è solo l'auto? Mannaggia. No, aspettate, ci sarà qualcosa. Dormire nell'auto? Potremmo rompere il vetro e dormire qua, ma... Sei un android, dovresti sfondarlo con un pugno, cara. E voglio fare più azioni possibili, però non ho ancora deciso se ci dormirò. Puoi dormire in macchina, ok. Ok. Scusate, voglio esaurire tutte le opzioni. Allora, tronchesine. Aspettate, forse c'è qualcosa qui. No. Sì! Sono... Delle tronchesine? Ok, ok. Lo sono. Perfetto. Allora, torniamo a Andrè. Scusate, qua c'è qualcosa che magari mi sono perso. Volendo potremmo anche... Tagliare qua. Ah sì, sì, sì. Possiamo tagliare anche di qua. Ok. Facciamo prima. Così evitiamo di dover fare il giro. Tac. 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 Sì, è solo un tagliamento. Scusate. Non preoccuparti, siamo solo a guardare. Trovo una via d'accesso. Pum 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 pum. Nope. Ok, dobbiamo fare il giro. Sembra una catapecchia, eh. Tira. Allora, io non capisco se... No, in realtà ci sta perché un androide domestico non dovrebbe essere forte. Perché stavo dicendo, io non capisco perché dovrebbe limit... Se si sta per caso limitando nella sua forza per non spaventare la bambina. Perché teoricamente un robot, una macchina dovrebbe strapparle queste tavole di legno. Ci uscirebbe anche un uomo forzuto, eppure cara, che è un androide e non ci riesce. Ma probabilmente è perché non è quello il suo scopo, l'intento per il quale è stato costruito. Non dovrebbe essere molto forte, dovrebbe essere abile nei lavori manuali, nelle faccende domestiche. Ma comunque non in grado di strappare un asse di legno a mani nude. O di sfondare una porta. Oh no. Oh no 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 no. Porta Alice dentro casa. Oh cazzo. Allora andrà dei bambini innocenti giustificati e... Giustifichiamoci. Ai. L'ospitalità vai via, rassicura. Insisti, rassicura. Se Ralf è parecchio schizzato... Ah, gli umani gli hanno fatto questo. Stai se vuoi. Ralf non ti fai scusare. Oddio! Non è proprio in bolla il nostro Ralf, però proviamo a fidarci. Non sembra malvagio. Sembra solo... Cazzo. Come, come, come. Completamente fuori di testa. Eh, ormai... Ralf viveva qui da quando si fu fuori. Ralf non va fuori, quindi nessuno sa che vive qui. Solo per una notte. Solo per una notte. Ma, you know, Ralf si scusca fino a fuori. Non posso rossare di qua. In realtà anche noi dovremmo essere danneggiati come lui sulla guancia, ma... Vabbè. Il gioco sembra esserselo dimenticato. Mmm, me la son legata un po' al dito. Ralf si va in l'altra ruota. Meno male. Dovevi fare quello che devi. Non ti curare di noi, ma guarda e passo. Vedremo un migliore posto domani. Ok. Vediamo dove puoi dormire. Ok. Direi che abbiamo deciso di occupare la casa. Avremo anche un coinquilino. A quanto pare. Preparo un letto per Alice. Accendi il fuoco. Ehm, ok. Prendi. Ah, ok. Questa è la legna. Perfetto. Metti giù. Scanner. C'è qualcosa all'in fondo. Trova della carta. Oh, qua c'è qualcosa. Fiammiferi. Ok. Ok. Possiamo accendere il fuoco allora. Ah no, la carta, la carta ci manca. Scemo. Eccola qua. Ok. Intanto riscaldiamo la stanza. Perfetto. Vieni qua, piccola. Perfetto. Ah, stiamo trovando tutto piuttosto facilmente. Coperta, trovata. Metti il letto accanto al fuoco. Tu puoi venire a bed. Ho fatto ciò che potrei. Non è molto, ma almeno tu sarai caldo. Ok. Aspetta però, adesso vengo a darti la buonanotte. Però prima volevo esplorare un pochettino questa zona. Non credevo di trovare tutto subito. Vabbè, qui abbiamo fatto tutto. Su. Qualcosina di interesting. Hmm. Qui gli animali impagliati sono stati pitturati. Sì, questa casa prima di essere stata occupata da quell'androide comunque deve essere stata occupata da qualche barbone. Comunque da dei ragazzi. Da dei tossici, insomma. Probabilmente c'è stato qualcun altro. Non c'è niente con cui possiamo interagire. Far strano. Forse l'esploreremo ancora più avanti. A questo punto credo di sì. Chissà dove dorme il nostro amico. C'è un'altra stanza al piano terra. Oh, oh. Cassetti. Ah, ma non possiamo interagirvi. Hmm. Vabbè. Spero di trovare qualcosa di utile o che ci sarebbe tornato utile magari negli episodi più avanti. ma... Nada de nada. Allora. Prima di salutare Alice. Oh. R-A-9. Oh. E I'm alive. Oh, c'ho. Oh, c'ho. Caro Ralph. Dobbiamo parlare. R-A-9. R-A-9. What does that mean? What? Those symbols. Why are you writing that? I don't know. Oh. Non sarebbe a dire che non lo sai. Non lo sai. Forse ha a che fare con il virus. Con il... Software danneggiato nei devianti. La corruzione. Quello che è. Quindi, i devianti non sono semplicemente androidi che provano delle emozioni, ma... In qualche modo... Oh, non lo so, ragazzi, no. Forse è ancora presto per specularci sopra, però... R-A-9. Forse è una sigla. Per cosa può stare? Forse è un modello. Forse è un modello di android. Non lo so. Non lo so, vabbè. Per ora... Non mi faccio troppe domande. Ok, piccolina. Eccomi qua. Perché non mi amava mai? Perché era sempre così assicuro con me? All'altro che ho chiesto era una vita come le altre donne. Mh. Ovviamente si colpevolizza. Tipico. Poverina, ragazzi. Pensare che queste situazioni sono all'ordine del giorno. Scusate, sto indugiando, eh. Perché so che molto probabilmente è importante tutto questo. Possiamo promettere qualcosa di cui non siamo certi? Chiaro che non potremo prenderci cura di lei per tutta la vita. Dovremmo mentire? Solo per rassicurarla. È spaventata? Una situazione del genere... Forse... Una bugia... Una bugia... Ma... Ti odio queste scelte. Glielo promettiamo, ragazzi. Succederà qualcosa di terribile, ovviamente. Verso la fine del gioco. Oh no. Non farmelo dire. Succederà qualcosa di terribile per cui dovremo sicuramente abbandonare la ragazzina. E questa promessa peserà sulla nostra coscienza, ma... Ok. Tra l'altro non è convinta nemmeno Cara nel momento in cui gliel'ha detto. Guardate il movimento. Non sa come abbracciare. Avete visto come è stata legnosa nel farlo? Non è un'animazione fatta male. È perché è un androide e non ha mai abbracciato. Non sa come si fa. Per quella è così rigida. Soundtrack come al solito è eccezionale. Baccia. Ragazzi, mi stanno... Mi stanno inumidendo gli occhi. Non so perché... Mi sto commuovendo. Maledizione. Ah, dai. È ovvio che staremo con Alice. Non legarti a questa bambina, Steve. Succederà qualcosa di brutto. Lo sai com'è fatto Cage. Probabilmente morirà in un modo terribile. No, non è così coraggioso da ucciderla. Forse. Killer dell'origami, sei tu? Ok, abbiamo aumentato di molto il feeling con la ragazzina. Ok. Chiaramente c'erano un sacco di opzioni. Un sacco a sto giro. Sono veramente tantissime. Sono curioso. Ah, sono offline. Mannaggia, non posso vedere a sto giro le opzioni degli altri giocatori. Opinione pubblica, sempre scetticismo. Alice fiducia. Non rubi la barretta di cioccolato. Vabbè. Oddio, quanto sarebbe potuto andare avanti questa scena del supermercato. Tantissimo. Anche qui. Anche se fossimo entrati nell'auto, probabilmente, si sarebbe dipanata un'altra quest. Lunga tanto quasi quanto quella della casa, così come quella del motel, che però me ne aspettavo un pochettino di più che fosse lunga. Perché... Ah, c'è però. Se avessimo rubato i vestiti, probabilmente... Ah no, perché tiene conto della sezione all'interno della lavanderia, quindi anche se le avessimo rubate magari non sarebbe successo nulla. Saremmo usciti e a quel punto saremmo potuti entrare nel motel, dove ci sarebbe stato un altro bel susseguirsi di scelte. Caspita. La curiosità è tanta, come al solito. Però io credo che concluderò questo episodio qua. Ah, perché non ho idea di quanto possa essere lungo il prossimo, e ve l'ho detto, preferisco farli più brevi o più lunghi a seconda, però non tagliare mai. Io vi saluto. Ditemi quali scelte avreste compiute, davvero mi interessa sapere il vostro parere. Poi magari alla fine della serie, se avrò tempo e modo, faremo una live, in cui, magari in italiano stavolta, non in inglese, visto che qualcuno mi ha chiesto di sentire anche il doppiaggio in italiano, in cui vi farò vedere le scelte che non abbiamo intrapreso, ripercorreremo alcuni percorsi, per vedere come sarebbe andata a finire se, per esempio, fossimo andati al motel, se avessimo rubato i vestiti, o se avessimo dormito nell'auto, eccetera, eccetera. Bene ragazzi, alla prossima. Dresun.